La Regione taglia i fondi a Risorgimarche, diminuendo di due terzi i contributi destinati all'iniziativa che anima l'entroterra da dopo il terremoto del 2016. A precisare l'accaduto è l'assessore regionale alla cultura Giorgia Latini. Per l'estate abbiamo tantissimi appuntamenti, abbiamo adesso stanziato un milione d'euro per l'area del tratere, quindi Risorgimarche fa parte di questo programma e è ovvio che le richieste erano tantissime. Risorgimarche è una bellissima iniziativa, vediamo se adesso con il nuovo assestamento, anche con le nuove risorse, perché oggi sono stati deliberati altri due milioni proprio per la cultura, quindi vi do questa bellissima notizia in anteprima, magari potremo aggiungere ulteriori fondi. Però la cosa importante è che Risorgimarche, parlando anche con Neri Marco Re, ecco adesso è un evento che avrà una nuova evoluzione, perché ovviamente era un evento legato al sisma, invece ad oggi questo evento deve risorgere anche lui, cambiare, anche perché è ovvio che gli artisti che venivano prima gratuitamente, proprio per mettere in risalto le zone del tratere, ad oggi non verrebbero più gratuitamente, quindi ha dei costi sproporzionati da un punto di vista, se vogliamo fare degli eventi come gli anni passati, quindi si deve un po' riconvertire. Sicuramente la collaborazione con Neri Marco Re c'è, è attiva e quindi fa parte della squadra.